Grazie, buonasera, ci siamo? Ci siamo ancora vivi? Sì, è l'ultimo intervento però insomma siamo carichi per poter parlare di questo argomento un po' particolare perché comunque sia non stiamo mettendo parole chiave, non stiamo facendo quali parole chiave giuste da mettere nel testo, non stiamo parlando di un argomento abbastanza tecnico se vogliamo, questo crawl budget, non se ne sente parlare tantissimo, anzi ultimamente forse sì, però insomma il mio obiettivo è quello di portarvi qua uno speech sì tecnico ma allo stesso tempo chiaro e semplice alla portata di tutti. Ok, non funziona questo, ok, al contrario. Ok, ha già detto tutto lei, andiamo avanti. Allora questo qua sono un po' gli argomenti di cui tratteremo oggi, faremo delle premesse giusto per fare in modo di capire cosa stiamo, cosa appunto affronteremo l'argomento, definiremo il crawl budget, quando applicarelo, quindi quando dovremo stare attenti a questo parametro, faremo dei calcoli, delle verifiche, quindi abbiate pazienza, un po' di matematica ci sarà, poi vedremo i modi per incuriosire Google e poi finalmente alcuni punti per ottimizzarlo, tra cui ci sarà anche un test che vi farò, quindi non vedo l'ora di farlo perché proprio ho bisogno di capire il risultato finale. Bene, facciamo delle premesse e capiamo che cos'è un crawl, ok, un crawler che cos'è? Non è semplicemente un software, ok, un software appunto viene utilizzato dai motori di ricerca per poter poi fare la scansione del sito, ok, quindi attraverso una serie di URL che poi vengono schedulate, questo bot, il bot, quando parliamo di bot di Google e così via, non è altro che un software che va appunto nei siti internet a rovistare un po' tra tutti gli URL e poi prendere appunto i contenuti. Tipologie di link, i link quali sono? Link interni, link esterni, con un attributo rel nofollow, quindi che non segue, invece l'altro attributo non esiste, nel senso che molti parlano di dofollow ma non lo dobbiamo applicare come attributo al tag A. Altra cosa è le sitemap, sappiamo tutti cos'è una sitemap, sappiamo tutti cos'è un feeder SS, quindi un altro contenuto di ultimi prodotti, se parliamo di e-commerce, qui gli ultimi prodotti inseriti, oppure gli ultimi articoli stiamo parlando di un blog e così via, tutti e due possiamo darli in passo alla search console, anche i feeder SS, anche i feeder SS li possiamo dare alla search console come se fosse una sitemap, ok? In ultimo il log del server, ormai sono sicuro che qua dentro tutti quanti guardiamo i log del server, giusto? No dai, ormai si sa, insomma i log del server, come vedremo, insomma ne approfatteremo un po', sono veramente utili per noi SEO perché molte volte ci salvano anche il, ok? Quindi perché da lì si vede proprio il cuore dei problemi, ok? Parliamo della definizione, cioè che cos'è il crawl budget? Ha definito Google in questo post del 2017 e dice il numero di URL che Googlebot può e vuole, desidera, sottoporre a scansione, ok? Poi dipende da più fattori, quindi dalla frequenza di aggiornamento, come vedremo e così via, dalla popolarità del sito, eccetera, eccetera, quindi un tempo che comunque sia tempo e risorse che Google ci dedica. Vi do la mia definizione, molto molto semplice. Google ci dedica delle risorse, Google ci dedica del tempo, ecco, noi dobbiamo cercare di sfruttare al meglio questo tempo, dobbiamo cercare di sfruttare e soprattutto dobbiamo cercare di evitare di sprecarlo, che ovviamente alla maggior parte delle volte succede così. Perché questo? Perché ovviamente non tutte le pagine hanno la stessa importanza, quindi noi dobbiamo dare quelle pagine che non interessa di più che l'utente veda, giusto? Quindi quelle pagine che l'utente vede veramente come pagine autorevoli, piene di contenuto, che rispondono all'utente e così via, non a pagine magari un elenco di un filtro, di un prezzo per un e-commerce. Quindi Google ci dedica delle risorse, quindi proprio dei server che vanno a, diciamo, a scansionare tutta quella parte e poi memorizzare tutte le pagine, quindi dobbiamo evitare di dargli contenuti inutili. E quindi dobbiamo evitare di, come ho scritto qua, di non disperdere le sue attenzioni. E in questo speech cercheremo di capire quali sono, cioè come riusciamo a richiedere più attenzione da parte di Google. Ma dobbiamo subito capire chi è che deve controllare questo crawl budget. È per tutti? Ma forse no, perché comunque sia un sitarello che è composto da 10, 100 pagine, boh, forse non è neanche il caso che si pensi al crawl budget. Nel senso che comunque, è chiaro, se tutto abbiamo una struttura ben definita, se abbiamo, diciamo, tutto a livello SEO ben ottimizzato, beh, a quel punto non ha tanto senso, perché comunque sia, se tutto va bene, Google ci visita. Invece, più che altro, è importante, appunto, dedicare attenzione a questo parametro per, per esempio, per l'e-commerce. Quindi, dei siti che hanno tantissimi prodotti uguali a tantissime pagine, che a loro volta magari hanno dei filtri e quindi queste pagine si moltiplicano, moltiplicano, moltiplicano. Idem le testate giornalistiche, che magari pubblicano dei post in continuazione, mattina, 50 la mattina, 50 la sera, e qui abbiamo una moltiplicazione dei contenuti. Quindi, siti editoriali e così via. In definitiva, in generale, tutti i siti che hanno un numero di URL importante, accessibili e scansionabili. Quindi, risorse, non solo pagine, di URL accessibili, quindi dove il crawler, quindi il bot, riesce ad entrare e riesce a scansionare il contenuto. Ma questa è ovviamente una cosa classica che avviene nel senso che molte volte pensiamo che il nostro sito è composto dalle pagine formate dal menu. Cioè, quel menu in alto che linka le nostre pagine interne, noi abbiamo il sito che è formato da 20 categorie, 10 marchi e così via. Invece, in realtà, non è proprio così. E infatti, qua dobbiamo tenere conto di tutti gli URL che sono presenti all'interno del nostro codice. Anche, per esempio, quello che noi mettiamo nel tag link con attributo relcanonical è un URL che è scansionabile. Altri URL che magari vengono iniettati da un plugin. Che ne so, io ho utilizzato WordPress, qualcuno utilizza WordPress. Ecco, si è mai chiesto, ma installando un plugin non è che questo qua all'interno del codice va ad inserire qualche URL? Questa è una cosa che dobbiamo tenere conto, perché se l'URL è all'interno, questa qua è una risorsa scansionabile, a meno che non siano dei parametri per bloccare appunto il bot. Idem per l'e-commerce. L'e-commerce, i filtri, sappiamo benissimo che i filtri, prezzo, marchio, colore, sono tutte URL potenzialmente scansionabili e quindi indicizzabili. Non ci siano appunto dei parametri particolari. Quindi dobbiamo stare attenti a quante sono le pagine scansionabili. E come riusciamo a farlo? Beh, ovviamente con, stiamo parlando di siti ovviamente giganteschi, nel senso abbastanza importanti, quindi con un numero importante di URL scansionabili, e possiamo utilizzare i classici tool come per esempio SEMrush, Visual SEO Studio, Oncrawl, Deepcrawl, eccetera, eccetera. Screaming Frog. Screaming Frog sì, funziona, ma cosa succede? Che se abbiamo un sito molto ampio, cosa fa? Si blocca. Giusto? Bene, invece in realtà c'è una persona proprio di Screaming Frog che permette di bypassare questa cosa qua. Cioè cosa fa Screaming Frog? Va a memorizzare il tutto perché sfrutta la nostra RAM. Quindi se abbiamo un computer con poca RAM, chiaramente ci sta il tot di URL che possiamo memorizzare in quei giga. Giusto? Ecco, andando su invece Configuration, System Storage, non sfruttiamo più la RAM, ma potremo sfruttare una porzione del nostro disk, che sia interno o esterno, quindi soprattutto consigliato ovviamente un SSD perché è molto più veloce. Quindi anche con Screaming Frog possiamo finalmente scansionare i siti veramente molto importanti. Magari ci attacchiamo con un USB un nostro hard disk SSD e abbiamo tantissimi giga a disposizione. E allora qua arriva un po' di matematica. Allora facciamo un piccolo calcolo. Chi è bravo in matematica? Oh, nessuno c'è. Ah, ok. Ok, facciamo un calcolo. Poi poniamo che Google ci dedica una, diciamo, fa una richiesta ogni 20 secondi. Ok, quindi ogni 20 secondi, richiesta di Google. Google che entra sul mio sito e richiede l'URL. proviamo di avere un sito formato da 100.000 pagine. Ok? 100.000 pagine, un sito, un buon sito, non è che sia enorme, però insomma è abbastanza importante. Noi sappiamo che ovviamente in un'ora abbiamo 3600 secondi, in un giorno ne abbiamo 86.400, semplicissimo, 60 per 60, 3600 per 24, quindi in un giorno abbiamo 86.400 secondi. Ora se dividiamo 86.400 secondi e lo dividiamo per l'intervallo dei 20 secondi e punto di richiesta, vediamo che in un giorno Google prende 4320 pagine. Questo significa che per prendere 100.000 pagine, dividendo per 4320, occorrono ben 23 giorni perché Google prenda tutte le 100.000 pagine. E questo ringrazio ovviamente Federico Sasso perché è un input che mi ha dato in un vecchio speech ed è veramente cioè ti fa come, stiamo parlando di un esempio molto insomma non molto veritiero nel senso giusto per capire quali sono le dinamiche, ok? Però ti fa capire un po', cioè ti mette degli allarmi nel senso, ok ma siamo sicuri che ci sta scansionando tutte le pagine? E quindi la domanda è, Google ci visita o no? Cioè noi lo controlliamo? Per capirlo ci sono due strumenti, i più semplici, i più banali, ma forse i più importanti. Uno è il log del server e due è la nuova e vecchia versione, soprattutto la vecchia, perché in realtà della nuova, sì bellissima quanto vuoi però io almeno io sono il primo magari a perderci, perdermi perché magari c'è qualche nuova funzione che sta aggiornando praticamente ogni giorno e quindi dobbiamo un attimo rivederla sempre. Però soprattutto la vecchia ci viene in aiuto. Il log del server abbiamo visto che tutti quanti lo controlliamo, lo troviamo ovviamente all'interno del nostro server, se usate per esempio un cpanel avrete proprio un'iconcina che vi linka direttamente ai file per scaricare appunto tutto l'intero log e poi una volta scaricato lo dobbiamo analizzare. Come lo analizziamo? Lo analizziamo con un software chiaramente per la lettura dei log, che non è che serve un software complicatissimo, ma un software più che altro che mi permetta di capire che cosa c'è scritto in questo lungo file pieno di codici strani e così via. Quindi mi permette di filtrare, ok, per ip, per user agent, eccetera eccetera. A noi cosa interessa? Ovviamente interessa principalmente il bot di Google, quindi Google immagini, Google bot per versione desktop, versione mobile e così via. E questo ovviamente in questo link che vi ho lasciato qua troverete tutti gli elenchi di bot di Google, ok, proprio col loro nome. Questo perché ovviamente perché ci permette poi di identificarlo nel log del server. Tra l'altro Google bot ora a breve cambierà nome perché Google utilizza Chrome per poter scansionare la versione 41 e proprio dall'ultimo evento che c'è stato di Google hanno detto che praticamente grazie appunto a un aggiornamento Google effettuerà una scansione con Google Chrome ultima versione. Quindi dalla 41 si passerà alla 74 ma per motivi di, insomma, di onde evitare di blocchi server lato sistemista lo continueranno a chiamare Chrome 41. Quindi a breve comunque avremo anche quest'altro aggiornamento. E questo perché? Perché ovviamente Google ha tutto l'interesse di scansionare il più possibile il nostro sito, i nostri contenuti anche con le funzioni JavaScript, eccetera, eccetera, eccetera. Ma attenzione perché ci sono anche dei falsi bot. E infatti molte volte troviamo il nostro log invaso, ok, da Google bot. Dice, ah, caspita, ci sta visitando tantissimo, quindi non abbiamo problemi. Invece molto spesso non è così. Cioè si chiamano bot, in realtà non è così. Lo stesso Screaming Frog, per esempio, io posso mettere un user agent che si chiama Google bot, giusto? Ok. Però in realtà forse non è proprio così Google bot. Quindi cosa fa Google? Mette una guida, è tutto scritto, non me lo sono inventato io, ma in questo link. Google bot cosa fa? Dice, ok, se voi andate, per esempio chi usa il Mac nel terminale, o comunque sia per chi usa Windows nei comandi, pronte i comandi, attraverso appunto il terminale io posso fare una doppia verifica di DNS. Cioè gli metto host spazio il numero dell'IP che ho ritrovato nel mio log, ok? In corrispondenza appunto del log di Google bot. Lui mi restituirà appunto una stringa di questo tipo qua, dove questo, questo che vedete qua, è appunto il nome del bot. Quindi faccio un'altra analisi mettendo host spazio nome del bot, nome del bot intero. Se lui mi restituirà l'IP di partenza significa che effettivamente è Google bot. Cioè è proprio l'IP giusto, quindi non è un falso bot. E questo perché? Ovviamente perché se ci bombardano di richieste, chiaramente vanno a sfruttare la banda del nostro server. Quindi se noi abbiamo una banda importante, chiaramente il nostro sito rallenta. Altra cosa, la search console, la vecchia search console. Cosa riusciamo a fare con la search console vecchia? Riusciamo a capire qual è l'impostazione di default che Google ha impostato per il nostro sito. Cioè quale sono il numero di richieste al secondo e l'intervallo tra una richiesta ed un'altra. Questa è una cosa che possiamo fare, potete fare tutti voi già da domani. Entrate nella search console vecchia, vi ricordate l'URL? Sì. Vado nella mia proprietà, angolino a destra, vedete qua nella rotellina, impostazioni sito e mi ritrovo praticamente in quest'altra videata. Ok? Questa videata di default ha il pallino sull'ascia che Google esegua l'ottimizzazione per il sito. Ok, di default è così. Ma se io sposto il pallino qua, vedete, quindi limita la frequenza di scansione, lui di default mi fa vedere questo risultato. Questo è l'impostazione che Google ha dato per il mio sito. Quindi io posso scoprirlo. Attraverso questa search console ovviamente questa funzione posso anche richiedere una maggiore o minore scansione. Ok? Considerate che comunque sia se lo impostate, io non lo consiglio perché comunque sia poi alla fine Google poi che decide, però considerate che è un'impostazione che poi vi durerà 90 giorni. Cioè Google per 90 giorni vi metterà in test una frequenza di visita più quella che avete impostato voi. Però durerà solo come test 90 giorni. Ancora abbiamo i grafici che sono importantissimi che ci permettono di scoprire quali sono le pagine, cioè quali sono il numero di pagine sottoposte a scansione giornalmente, quali sono i kilobyte scaricati e il tempo trascorso per il download. Questa tanto questa slide poi la riprenderemo poi più avanti. Quindi abbiamo la possibilità di fare in modo che Google, cioè di dare qualche input a Google e dirgli guarda vieni a visitarmi. Lo facciamo in due modi principali. Uno è il sistema pull, ok? L'altro è il sistema push. Il sistema pull da cosa è formato? È formato alla frequenza dei aggiornamenti dei contenuti, quindi più aggiorno i contenuti e più ovviamente Google è stuzzicato a venire a trovarmi nel sito. Produzione di nuovi contenuti, variare i tipi di contenuti, lo dico sempre in ogni speech, immagini, testi, video, sono tutti contenuti, non esistono solo i testi. Link interni, le sitemap, il feed rss che io sincronizzo sulla search console, ancora i backlink, sono tutti indici importanti perché Google entri sul mio sito. Altra cosa è il sistema push, cioè la search console io posso mettere un url che ancora non è indicizzato, lo metto nella nuova search console e richiedo ovviamente l'indicizzazione, no? Altra cosa il ping sulla sitemap o sul feed rss. Abbiamo la funzione direttamente sulla search console oppure semplicemente mando l'url con alla fine, quindi c'è un url parametrica dove poi alla fine io imposto l'url della sitemap o il feed rss. E ancora ultimamente si sta usando molto anche l'API per appunto mandare a Google l'input per dirgli guarda che abbiamo un aggiornamento, abbiamo una nuova pagina. E questo lo possiamo fare pensato un po' anche con le pagine AMP. Le pagine AMP che sapete tutti vanno in cache su Google ma se io aggiorno il mio articolo, ma Google mi fa rivedere sempre la stessa cosa? Invece no. In realtà oggi ci sarà un altro speech che farò un po' più avanti perché abbiamo preparato proprio un plugin di WordPress che fa questo. Cioè manda l'input ogni volta che aggiorno il mio articolo lo manda ad AMP. Qui dice aggiorno la versione che ha in cache. E questa è una figata perché ovviamente attraverso l'API posso dare un segnale. Dopo che io riesco a stuzzicare Google mi devo fare delle domande. Uno. La scansione è sufficiente per arrivare in poco tempo su tutte le pagine? Cioè Google riesce ad arrivare in tutte le pagine effettivamente? Anche le pagine foglie a pieni date? Sta scegliendo le pagine più prioritarie? Cioè quelle pagine obiettivo che io voglio che si posizionano bene in SERP? E ancora sta pensando frequentemente anche dopo che io aggiorno un contenuto? Beh dobbiamo farci queste domande per poter fare poi un'ottimizzazione finalmente del crawl budget. E quindi fate queste domande, proponiamo che non stiamo andando molto bene. Vi do qua dei dieci strumenti che già domani potete applicare sul vostro sito per poter stuzzicare ancora di più Google. Siamo pronti? Ok. Il primo qual è? Ovviamente il robot XT. Nulla di particolare, lo sappiamo tutti. Attraverso il robot XT io posso impostare delle regole perché il primo file che lui va a leggere quindi dice è come la chiave d'accesso. No ma io posso entrare lì? Posso entrare di là? Quindi io già dal robot XT posso mettere in disallow diverse cartelle che magari hanno un contenuto duplicato. Posso mettere in disallow dei parametri. Posso specificare anche alcuni user agent. Per esempio qua MSN bot posso addirittura impostare un crawl delay cioè una frequenza cioè quanto deve aspettare diciamo il bot per rifare un'altra scansione. Non funziona con Google. Quindi posso anche specificare le singole regole per user agent. Ma adesso qua vi faccio il test. Siamo finalmente arrivati al test. Siamo pronti? Questo è il test. Allora poniamo di avere queste regole qua. Abbiamo queste regole qua sul robot XT. Quindi in disallow la cartella A per user agent asterisco. Cosa significa user agent asterisco? Cosa significa? Per tutti quanti no? Ok quindi per tutti quanti bot disallow cartella A. User agent Google bot quindi vado a specificare delle regole per Google bot disallow la cartella B. Secondo voi Google bot è autorizzato a scansionare la cartella A. Chi dice sì? Chi dice no? La risposta è sì. Il 90% ha risposto, forse di più del 90% ha risposto no. Eppure questo fa capire quanto veramente dobbiamo fare attenzione alle regole che noi mettiamo sul robot XT. Perché il robot XT è la cosa più semplice, giusto? È la prima cosa che insegni, che impari da da SEO, no? È la chiave d'accesso. Ma se siamo i primi a sbagliare? Dove vogliamo andare? Vi ho portato effettivamente questo test proprio perché è stato fatto da poco anche su Twitter e ovviamente a livello mondiale l'80% delle persone ha sbagliato. Ok? Quindi ci fa capire quanto è importante. Quindi in realtà Google bot è, può, è autorizzato a scansionare la cartella A. Questo perché secondo voi? Perché se io imposto una regola user agent specifica per un bot, tutte le altre, non me ne frega niente. Cioè Google bot va a leggere solo ed esclusivamente le regole che sono impostate per lui. Poi, poi come ne frega che qua ci sia user agent asterisco. E non è una questione di priorità di inserimento. Potevo fare anche l'inversione. È uguale. Ok? Questa è una cosa molto molto importante. La seconda cosa è la velocità del sito. È la velocità del server. Perché ovviamente lo sappiamo tutti. Un sito deve essere veloce perché l'utente è molto invogliato a girare tra le pagine. Ma anche Google bot lo è. E anche tutti, ovviamente tutti i bot. Quindi più un sito è veloce, più risponde velocemente e più il tempo di risposta è veloce e più chiaramente Google bot riesce a scansionare pagine. Giusto? Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo puntare sul server di qualità. Ottimizzazione ovviamente del codice. Evitiamo il codice pieno di tanti piccoli altri codici che alla fine non servono a niente. E soprattutto ottimizziamo lato SEO per la velocità. Utilizziamo la cache. Guardate qua. Chi usa Brotley? Ok. Uno solo. Brotley 2. Brotley è veramente un nuovo sistema di recente, non neanche di recentissimo, però un Gzip 2. Mettiamola così. È più potente di Gzip. Cioè mi permette, Brotley, mi permette di, con veramente poco codice, ovviamente dovete avere il server che lo supporta, e ormai ce l'hanno tutti, mi permette di fare una compressione ancora maggiore delle pagine. Quindi se con Gzip pesavano, per fare una stupidaggia, 1,45 Kbyte, io riesco a portarlo magari a 1,20. È sempre qualcosa di più guadagnato, no? Ok? Quindi questo ve lo consiglio, cercatelo, perché è veramente una cosa molto, molto importante. Qual è lo strumento principale da utilizzare per capire se il mio sito è veloce o meno? Nulla. Il più semplice. Google Chrome. Voi aprite Google Chrome, Chrome, F12, strumenti per sviluppatori, e lì avete un mondo proprio. Quindi niente tool a pagamento o altro. Altra cosa, sempre sulla Search Console, io posso andare a verificare, vedete qua i grafici, cioè vedete qua il sito è veloce. Giusto? Guardate la differenza. Tempo di trascorso molto più basso. Quindi mi permette di scansionare molte più risorse. Ok? Quindi ecco perché è molto importante puntare sulla qualità del server, puntare sull'ottimizzazione del sito e così via, leggo di velocità. Il terzo punto è la struttura del sito. Direte sì, ma è una cavolata. Eppure vi posso assicurare che anche controllando i nostri siti, sviluppati magari dai nostri sviluppatori, ci rendiamo conto di quanto casino abbiamo. Cioè nel senso, pagine che sono lì annidate, non le trova nessuno, non hanno link. Quindi partiamo da una struttura ben definita, partiamo dalle basi. Purtroppo fare siamo veramente così, cioè non si tratta di fare cose grandissime, ma le basi. E qua, quindi evitiamo gli annidamenti, quindi le pagine foglia, cerchiamo di linkarle bene, cioè che riesca a raggiungerle. Evitiamo le pagine orfane, quindi che non ricevono link e quindi evitiamo la troppa profondità. Esiste un tool che io utilizzo spesso, che è una figata per me, che è Visual Site Mapper. Chi lo conosce? Ok, qualcuno sì. Cosa mi permette di fare? Gli do in passo l'url del sito, ogni tanto sparisce la voce, gli do in passo l'url del sito e lui mi fa questi grafici così. Vedete? Quindi mi dice quali sono poi, perché se io ci passo poi il mouse, qua per esempio, mi dice qual è l'url che un po' si distacca da tutto il resto. Quindi in poco tempo, dopo una scansione che dura qualche minuto, io riesco ad individuare quali sono le aree che sono un po' staccate. Ok, perché magari mi danno un 404, quali sono le pagine che magari mi danno uno status quo diverso da 200, eccetera, eccetera. Quindi è molto bello, ve lo consiglio perché vi dà una veramente panoramica completa di tutta la struttura. I link interni, ne abbiamo parlato prima, Google si sposta di link in link, se vogliamo, quindi dobbiamo essere i primi noi a metterli in modo intelligente, con le anchor text giuste, il lato posizionamento, ma anche il lato crawling, dobbiamo fare in modo che ogni pagina abbia un giusto valore di link. Ok? Una pagina che riceve 100 link interni sarà sicuramente meno scansionato, comunque si avrà una frequenza di aggiornamento minore rispetto a quella che ne ha solo uno, perché magari ha più difficoltà a trovare quella pagina che a sua volta linka la pagina a foglia. Consideriamo anche che i link esterni, quindi il classico page rank, è un fattore, se vogliamo, che indirettamente incide sul crawl budget, perché, l'abbiamo detto prima, più una pagina è conosciuta, quindi ha popolarità, e più ovviamente Google cosa fa? Va a scansionarla. Altra cosa, l'abbiamo visto prima, le verifiche costanti sul file di log sono veramente importanti perché anche lato SEO ci permettono di risolvere grandissimi problemi. Proprio, vi porto un caso proprio di questa settimana, dove lo sviluppatore cosa ha fatto? Avevamo un prestashop, un e-commerce, e ha aggiornato, e glielo ho chiesto io, ha aggiornato il modulo per l'analytics, ok? Analytics premium, una cosa del genere, non mi ricordo esattamente come si chiama. Tutto perfetto, cioè nel senso che se tu andavi da utente sul browser del sito, sul sito, perfetto, lo verificavi, cioè andavi, navigavi tranquillamente. Facevi un crawling con Screaming Frog, succedeva una catastrofe, cioè andava a toccare un piccolo script in GIS che incasinava tutto il server, quindi praticamente le pagine stavano restituendo errori 500. Ovviamente poi scansionando con Screaming Frog, per esempio, anche l'atto utente si bloccava tutto, cioè nel senso andava poi in time out. E poi altra cosa, quindi verificate veramente questa roba qua, sia con Screaming Frog, ma sia lato server. Altra cosa, verificiamo quali sono, se sono veramente tutti i veri bot di Google, perché, come abbiamo detto prima, ci toglie della banda, e quindi il sito andrebbe più lento. Il sesto, i link rotti. Chi è che va a controllarsi quanti link 301 abbiamo nel sito? Il 301 è giusto averli? Sì, nel senso, se una pagina è stata modificata, ci metto giustamente un 301, giusto? Perché ho modificato l'url. Ma sapete che ogni volta che lui vede un 301 sta sprecando tempo? Perché in realtà poteva andare direttamente alla risorsa che ha 200, cioè che risponde con uno status code di 200. Quindi, cosa dobbiamo fare? Andare a Marina, o comunque sia attraverso il back-end, andare a modificare l'url, mettendo anziché un 301, ma restitiamo direttamente, cioè mettiamo, cambiamo l'url e gli diamogli direttamente un 200. Come lo facciamo? Una scansione con Screaming Frog, Visual Studio Studio, qualsiasi strumento che fa una simulazione di crawling, e cosa fa? Mi dà tutto l'elenco dei 404, quindi li correggo, i 301. Benissimo, ci sono, ma li posso correggere se sono link interni, giusto? Quindi facciamolo, perché così Googlebot evita di sprecare tempo. Un altro importante codice è il 503. Sappiamo tutti che è uno status code di manutenzione, cioè quando io sito in manutenzione, cosa faccio? Restituisco quella pagina, deve restituire un 503. Attraverso questo codice di intestazione che posso mettere anche in PHP, vedete, io posso dire al crawler di passare fra 10.800 secondi, cioè mi calcolo, gli dico, guarda, restituisci un errore 503, ma ripassa fra 10.800 secondi, perché noi abbiamo questo tempo in cui dobbiamo fare manutenzione. Quindi Google evita di passare in quel momento e avere un 503. Sa che il tempo di stimata è di 10.800 secondi, quindi impostiamo ovviamente in secondi. Il settimo è il canonical. Attenzione qua perché il canonical non evita di sprecare con il budget, però è importante perché l'ho incluso, perché ovviamente il canonical cosa mi dice? Dice a Google, guarda che la pagina più importante è quella lì. Noi siamo una copia, ma tu devi dare tutto il massimo lì dentro. Quindi Google a questa cosa si abitua ovviamente e va a scansionare direttamente quello. Ok? Non peraltro anche nella search console, come diceva anche Enrico, se non mi ricordo male, abbiamo tutti gli URL canonici. Link no follow. Chi li utilizza? Ok. Quando dobbiamo utilizzarli? Il problema è quello. Cioè, dobbiamo fare in modo che quella pagina non venga scansionata perché magari l'abbiamo ritenuta come inutile. Non serve che tu faccia una scansione anche di quella pagina lì. Quindi gli possiamo mettere al link l'attributo rel no follow. Attenzione che se lo mettiamo in una pagina e lui magari in un'altra lo trova lo stesso link senza l'attributo ovviamente lo scansiona. Quindi dobbiamo stare attenti a verificare che tutti i link puntano a quella pagina che io non voglio che appunto Google Bot vada a scansionarla. Io ovviamente ci posso mettere un link no follow. Cioè una scansionata a seguire quei link. Altra cosa, gli aggiornamenti dei contenuti. Dobbiamo fare gli aggiornamenti dei contenuti perché? Perché ovviamente il mio sito deve essere sempre fresco, deve avere deve essere utile per l'utente quindi devo inserire informazioni sempre aggiornate ma anche a livello di Google Bot ovviamente abbiamo detto che è una stimolazione per poter riscansionare chiaramente la mia risorsa. Per esempio se utilizzate WordPress lo fa in automatico cioè mette un tag meta con l'inserito quindi la pubblicazione del sito dove inserisce direttamente la data. Vedete qua questo è un esempio di un articolo inserito nel 2017, revisionato, quindi modificato nel 2019. Quindi anche all'interno del mio codice sorgente della pagina do dell'istruzione a Google guarda che c'è un aggiornamento. Oltre ovviamente alle site eccetera eccetera eccetera. Quindi anche questo qua è una cosa molto importante. Ultimo ma non meno importante è la sfoltitura dei contenuti. Cioè visti anche gli ultimi aggiornamenti bellissimi di Google degli algoritmi e così via, oltre a sprecare con il budget su pagine che magari sono semplicemente una coppia di tante altre. Quante volte noi abbiamo fatto dieci pagine dello stesso argomento? Trit, ritrit, ritrit, funzionava. Ma adesso forse qualcosa sta cambiando. Quindi onde evitare di sperdere il crawl budget ma anche se vogliamo visite, magari rafforzare il posizionamento di una pagina. Forse è il caso anche se, ovviamente con tanto di analisi, questo prendetelo con le pinze quindi non fatelo già domani ma analizzate e poi intervenite. Possiamo, se abbiamo per esempio tre pagine che parlano della stessa cosa, proprio cioè è uguale, è uguale, è uguale, è uguale. Possiamo, secondo me, fare un taglio e quindi le due che sono magari meno visitate, meno posizionate e così via, possiamo, tra virgolette, includerle nella pagina obiettivo. Restituendo un 301, quindi facendo in modo che tutto punti poi la pagina obiettivo e qua quindi stiamo già a un bel po' di roba, ok? Quindi stiamo rafforzando ovviamente il contenuto principale. Ci siamo? Quindi questi sono tutti gli aggiornamenti che già domani, se vogliamo, possiamo implementare. Quindi abbiamo visto, ripiloghiamo brevemente, abbiamo visto definizione del crawl budget, abbiamo visto che dipende dalla frequenza di aggiornamento, dalla popolarità del sito, eccetera, eccetera. Quando applicarlo? Lo applichiamo per gli e-commerce, per i blog, per le testate giornalistiche, quindi comunque sia dobbiamo tenerne conto quando abbiamo un sito veramente importante. Abbiamo fatto dei calcoli, abbiamo verificato che effettivamente si può verificare se Google entra o non entra. Abbiamo visto i modi pull, push per incuriosire Google e poi infine abbiamo visto da buoni SEO come finalmente ottimizzare questo crawl budget attraverso appunto questi dieci piccole osservazioni. Ok? Grazie mille. Vi ricordo di votare l'intervento di Filippo su Status. Ci sono domande? Ciao, grazie per l'intervento. Volevo chiedere, ho una pagina archivio di autori, vorrei posizionare solo la pagina principale, quindi la pagina dell'autore, dalla due a tutte le successive pagine, metto il canonical sulla prima. Volevo sapere se si risparmia crawl budget mettendo le altre in non-index, qual è la procedura corretta per risparmiare e se ha senso escludere tutte le successive? Ok, allora partiamo dal principio su una affermazione che tu hai detto, del canonical da pagina 2 a pagina 40 mettiamo il canonical di pagina 1. In realtà tecnicamente non è molto corretto, nel senso che comunque ogni pagina deve avere il suo canonical, se è differente dalla prima. Quindi a meno che nella prima non abbia tutto l'elenco completo degli articoli, lì in realtà se avete una pagina in azione è giusto che ogni pagina abbia il suo canonical. Ma a prescindere da questo, che risponde alla tua domanda, se è importante o meno indicizzarli, o comunque sia fare in modo che appaiono in SERP, lì dipende molto da come ovviamente è strutturato il sito. Molte volte si tende spesso ad evitare l'indicizzazione, proprio mettendo un no-index come meta no-index. Però chiaramente ti sono dato un'informazione che è un po' quella generale, ma dipende da quella che deve essere cucita sul tuo sito, quindi dipende se quei contenuti sono effettivamente utili all'utente, quindi è importante che quella pagina si indicizzi. Non c'è una regola generale. Intanto complimenti, io vorrei farti due domande. Allora, la prima è sul log file. Io mi sono ritrovato per analizzare il log file, ma non ho ancora trovato uno strumento che mi dia delle informazioni... Scusami, hai ragione, non l'ho detto prima. Utili. È il primo punto, se non mi ricordo male. Comunque, log analyzer. La bash è log. Esatto. Io ho usato quello, ho usato Samlash. Ma ce ne sono tantissime, eh? Io ho usato anche Screaming Frog per log file, ma entrambi, tutti questi strumenti, per esempio, non fanno il reverse DNS, per capire se effettivamente quella richiesta viene da Google o meno. Sinceramente ti dico, non conosco programmi che fanno reverse DNS, ma è una cosa che si può fare benissimo a manina, oppure costruirti uno script che ti fa tutto quanto. Non conosco personalmente un software che lo fai in automatico. Ok. Seconda domanda, al volo. Dato per scontato che scansione e indicizzazione siano due cose differenti. Io ho fatto uno script interno per fare il push degli URL. Ottimo. Ma in tutti i casi che ho provato, se non c'erano i dati strutturati che Google dice che dovrebbero esserci solo per article o quella roba lì, non andavano in indice. Cioè venivano scansionati, lui mi ritornava codice 200, ok, preso in considerazione quell'URL, ma comunque non venivano portati in indice. Se la stessa cosa veniva fatta da search console, magicamente apparivano gli indici. Quindi funziona l'index push o ancora una cosa... Funziona, sinceramente non mi ritorna questa cosa qua. Qui tu l'avevi, comunque sia cos'era, una pagina, un articolo? No, l'abbiamo fatto sia su articoli, sia su pagine di prodotto, che non avevano i dati strutturati che Google dice di dover mettere per l'index push e in entrambi i casi non andavano in indice. Anche se il codice che veniva restituito, interrogandolo poi successivamente, era preso in considerazione per scansione, per indexing. Ma mi torna, ma farò dei test su questa parte qua. Ok, grazie. Il tempo va bene, l'ultima l'ultima, sì perché mi sta supplicando. L'ultima la ragazza lì, poi è l'ultima. Le altre le potete fare su GT Master Club, quindi insomma non vi preoccupate. Ciao. Ciao. Non mi è chiara una cosa che hai detto prima sugli status code, sul 301 in particolare. Cioè se io ho una pagina, per n motivi, decido di spostare il contenuto su un'altra e quella la elimino, per forza devo fare il redirect 301 e dare... Cioè perché non devo mettere lo status code 301? No, attenzione. Ok, non ho capito, esatto. Allora, se tu sposti da pagina A a pagina B, hai fatto le constatazioni che effettivamente bisogna mettere un 301, pagina A va in 301 su pagina B, corretto. Se io ho una pagina del sito che puntava, cioè all'interno del sito io ho un articolo in cui avevo un link che puntava a pagina A, ovviamente se lo scansiono, quel link cosa farà? 301 su pagina B. Ma allora devo modificare il link. Posso modificare il link, anziché farlo puntare su pagina A, gli do direttamente il giusto contenuto di pagina B. Ok, grazie, mi ero persa il passaggio. Figurati. Grazie mille, grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie.